dai realizzatori del Signore degli Anelli. Che strano pensare che fosse così allora. Così va a finire quando la crosta terrestre si frantuma in mille pezzi. Dopo la guerra, le città furono ricostruite nei mari, nei cieli, ma le più mortali su ruote. Cos'è quella? È Londra. Il sistema di controllo di un'arma a energia quantistica. Non se la spegniamo. Sicura di volerlo fare? Devo farlo. Resta nascosta se non ti do il segnale. Quale segnale? Credimi, lo riconoscerai. Non passo inosservata. Resisti! Distrugga Londra prima che distrugga noi. Stanno giocando con il fuoco. Taglia la fune! Fallo! Vuoi morire? Invece vivrò. Fallo! Macchine mortali. Da giovedì 13 dicembre al cinema.